Bella raga dal vostro Zat Kastel, bentornati su Lega Nerd sul canale YouTube di Lega Nerd per le video recensioni del Trano del Re ovvero il meglio del meglio del mondo dei fumetti il fumetto di cui vi parlo oggi, wow una bomba, un brutto weekend, Ed Brubaker e Sean Phillips, boom! Allora ci sono veramente pochi fumettisti che non mi hanno praticamente mai deluso e uno di questi è senza ombre di dubbi Ed Brubaker praticamente tutto quello che ho letto di suo mi ha sempre conquistato anche spaziando tra atmosfere molto diverse tra loro probabilmente ve lo ricorderete per aver creato o ricreato il personaggio di Bucky Barnes trasformandolo nel soldato d'inverno facendolo diventare una delle presenze fisse in tutte le continuity della casa delle idee e poi è diventato una delle colonne portanti del Marvel Cinematic Universe se non avete appena visto anche The Falcon and the Winter Soldier oppure ve lo ricordate magari per aver ucciso Capitano America dopo la saga Civil War nel 2006 non è che tanti possono dire di aver ucciso Capitano America, ok? in un ciclo di storie che è stato sicuramente molto importante anche mediaticamente e poi averlo riportato in vita nella saga successiva Reborn ma probabilmente ve lo ricorderete anche per un'altra cosa ovvero Criminal, la sua opera più importante, ambiziosa se vogliamo e secondo il mio parere anche la più riuscita in assoluto ed è proprio l'atmosfera di Criminal che voglio portarmi visto che Un Brutto Weekend vede proprio il ritorno di questa coppia a dir poco stratosferica una delle più efficaci e interessanti di tutto il comedome americano quella composta da Brubaker stesso e il disegnatore Sean Phillips il progetto Criminal è una macchina tra l'altro ancora in movimento la saga che vede tutti questi delinquenti molto verosimili e ricchi di vicende umane da raccontare immersi in questa cornice criminale e non solo di Center City ha iniziato la sua corsa nel 2006 conta 7 serie e 2 spin-off i miei amici sono sempre stati tossici bellissimo tra l'altro di cui vi ho parlato circa un paio d'anni fa e che ho prontamente inserito anche nella lista dei migliori fumetti pubblicati in Italia di quell'anno è appunto Un Brutto Weekend che è l'oggetto di questa video recensione Un Brutto Weekend è un noir, quasi un giallo come da tradizione di Criminal in questo caso ambientato nel mondo dei fumetti conosceremo quindi una leggenda un personaggio incredibile, un personaggio immaginario di Hulk Raine uno di quei nomi che in questo universo narrativo farebbe tremare i polsi di ogni emozionato super mega fan del mondo del fumetto uno di quelli da accostare a nomi tipo Jack Kirby o Will Eisner tanto per darvi un'idea e le vicende ci porteranno tra l'altro proprio in un comicdom americano una comic convention americana tornando al 1997 un ormai settantenne artista famoso per Danny Dagger i Fantastici divenuto poi un cartone animato di successo o per opere come Zangar viene invitato a presenziare a questa comic fest per il quale richiede specificatamente la presenza del suo vecchio assistente Jacob peraltro già protagonista di un'altra storia di Criminal però Hulk Raine è ormai già una leggenda in declino anzi è un uomo totalmente rovinato dal suo passato come altri artisti simile a lui è stato vittima di una mancata attribuzione di meriti per molte sue opere finendo in un turbine di autocommiserazione pessime abitudini sia comportamentali che fisiche praticamente beve come un disgraziato che lo hanno reso una delle persone letteralmente più fastidiose al mondo prossimo all'alcolismo se non del tutto già perso nei bicchieri Hal ha una pessima fama nell'ambiente nel quale praticamente ha litigato con chiunque ma la sua è una storia molto complessa stratificata, molto triste si parla di falsificazioni di originali di strani incidenti mai del tutto chiariti eventi che hanno radicalmente compromesso l'esistenza di uno dei più grandi maestri del pennino mai vissuti nel corso di questo brutto weekend scopriremo la storia e il dramma di un uomo a cui è stato tolto molto e il tutto ci verrà raccontato proprio da Jacob Kurtz il quale sarà coinvolto in una cosa più grande di quello che si aspettava tanto da dover ricorrere all'intervento addirittura di Ricky Lawless uno dei tanti criminali che hanno fatto già da protagonista alle vicende di Criminal e quindi attraverso le splendide sempre splendide e ispiratissime tavole di Sean Phillips che come sempre grazie al suo tratto riesce realmente ad esplodere tra le pagine regalando volti, espressioni, reazioni di un'umanità davvero impressionante peraltro tavole anche ottimamente colorate dal suo stesso figlio Jacob passiamo dai tavoli dei firmacopie delle convention ad archivi segreti di opere leggendarie dalle verità taciute dalle grandi measure del fumetto e dai compromessi fatti in pubblico tra sorrisi falsi e pugnalate alle spalle a sporchi giri di truffa nel mondo della non arte un mondo che si sporca in qualche modo la nostra grande passione avere fumetti viene toccata da qualcosa di distante dal suo spirito diciamo più genuino ed entra in questo mondo fittizio ma anche incredibilmente verosimile di Criminal fatto di truffe, criminalità, alcol, sigarette, pistole 72 pagine che volano letteralmente ma risultano complete, appassionanti non c'è neanche una virgola sbagliata in questo racconto splendidamente illustrato l'ennesimo tassello del mondo di Criminal di Brobaker e Phillips stupisce per essere riuscito a portare queste atmosfere criminali anche nel mondo dei fumetti un mondo non privo di tragedie sicuramente drammi, imbroglie eccetera pensate a Joe Shuster il creatore grafico di Superman alle lotte che tanti lo stesso Jack Kirby hanno combattuto per vedersi riconoscere la paternità di alcuni capolavori mortali e opere seminali pensate anche a tristi vicendi come quelle di Wally Wood il creatore grafico della versione moderna di Daredevil morto suicida Brobaker e Phillips sono come Bud Spencer e Terence Hill Han Solo Chewbacca una coppia incredibile una coppia perfetta e questa graphic novel nell'ennesima veramente prova schiacciante del talento mostruoso di questi due grandi artisti non ne ho mai abbastanza di Criminal vi prego ragazzi continuate continuate edizione cartonata da parte di Panini Comics 72 pagine al costo di 13 euro non fate l'errore di lasciarvelo sfuggire assolutamente completate questo grandissimo affresco umano che è l'universo di Criminal ragazzi come al solito se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like qualche commento sotto condividetelo con i vostri amici supportate il nostro lavoro se vi piace e mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanellina per le notifiche e anzi fatemi sapere nei commenti come avete vissuto per esempio l'opera di Brobaker se siete anche voi matti come sottoscritto per le atmosfere di Criminal fatemelo sapere ci vediamo alla prossima ciao